ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale manco da un po dal canale qualche settimana che non so se avete notato non ci sono video questo un po per mancanza di tempo ma un po dico la verità per mancanza di voglia ho perso un pochino l'entusiasmo del fare video quindi sto cercando con questo video di riattivarmi per poter riprendere un po l'entusiasmo che avevo un tempo che ora è venuto a mancare detto questo qua davanti vedete delle meravigliose creazioni che non sono mie ma bensì sono un dono da parte di una carissima creativa che è venuta a trovarsi a modena sto parlando di vera pastoricchio qui davanti vedete appunto le sue creazioni questo è il suo bigliettino da visita trubit creation non vi lascerò qui sotto tutti i suoi link di riferimento al suo canale youtube la sua pagina facebook e quant'altro queste due creazioni me le ha gentilmente donate quando un paio di settimane fa è venuta in visita al magazzino di perlina i film and co lei insieme al suo marito abbiamo passato insieme veramente un pomeriggio piacevole è sempre bellissimo quando voi creative venite a trovarci ci date veramente tanta tanta gioia ed è bellissimo passare il tempo insieme a voi allora questi nel dettaglio sono gli orecchini infatti è emozionante per metterli in mano proprio realizzati da lei proprio una delle versioni del kit questi sono gli orecchini central park vera è stata era stata una delle vincitrici del match creativo dell'ultimo match creativo che avevo realizzato nel 2022 quindi l'ultima edizione ad ora e quindi questo era il progetto che era arrivato terzo classificato ricorderete che analisa aveva deciso di sua spontanea volontà di premiare tutte le prime tre classificate con la realizzazione del kit della creazione in oggetto e vera era arrivata terza e questa era la sua meravigliosa creazione gli orecchini central park guardate che meraviglia e questa è una delle versioni delle tre versioni del kit io veramente sono emozionata perché sono queste le cose che danno la gioia a continuare insomma in un certo senso anche col canale perché sapere che da un evento che ho organizzato io è nato un progetto meraviglioso come questo di cui è stato fatto il kit quindi grandissima soddisfazione per vera così come le altre due ragazze che si sono classificate il primo posto tiziana massa secondo posto alice spinello anche di loro era stato realizzato appunto il kit e quindi per me insomma è gratificante sapere di aver contribuito a una gioia di una persona così come in questo caso vera che ha regalato a me e ad analisa un paio di orecchini central park appunto della versione del kit ha detto che dovevano essere nostri e veramente quella è stata una gioia ed un'emozione insieme quindi grazie vera guardate che meraviglia questi orecchini che colori spettacolari proprio che rispecchiano i miei gusti veramente grazie grazie di cuore il tutorial di questi orecchini lo trovate qui su youtube perché come sapete il match creativo nasce da sempre per donare alla comunità creativa nuovi tutorial gratis quindi reperibili o su youtube insomma o in altre fonti ma sempre in forma gratuita e quindi questo nel dettaglio lo trovate qui su youtube vi lascerò il link diretto ovviamente al tutorial poi mi ha fatto un altro dono veramente vera grazie sempre di cuore bene per la tua generosità in questi doni perché insomma siamo a canalisa ha regalato due paio di orecchini questo è sempre al par che questo invece è un orecchino che dal momento al momento in cui ce l'aveva portato al magazzino non aveva ancora un nome e un tutorial perché appunto l'aveva ideato qualche giorno prima e aveva proprio deciso di donarcene un paio per uno guardate che meraviglia sono tra l'altro una lavorazione che rende questi orecchini double fas guardate che belli che sono semplici carini adattissimi anche per realizzare un centrale di un bracciale o addirittura con più modulini un bracciale proprio questi orecchini abbiamo deciso di chiamarli orecchini modena proprio abbiamo deciso abbiamo suggerito noi fra le varie possibilità che collegavano questi orecchini alla visita di vera al magazzino appunto quindi il magazzino si trova modena orecchini modena sono stati appunto aggiudicati il nome aggiudicato nel frattempo vera è stata gentilissima che ha esaudito la richiesta di avere entro breve il tutorial quindi anche degli orecchini modena trovate il tutorial sul suo canale youtube vi lascerò anche di questo ovviamente il link quindi io che dire ringrazio nuovamente vera e suo marito per averci tenuto compagnia in quel meraviglioso venerdì pomeriggio è stata con noi anche durante la diretta e quindi io ringrazio ancora tanto vera ringrazio voi per la visione di questo video spero con questo video di riattivarmi ho promesso a vera anche di realizzare un video creazioni è una delle tante creative che me l'ha richiesto quindi cercherò di fare anche questo a breve quindi grazie ancora per la visione e ci vediamo alla prossima ciao